Buonasera cari amici di Orizzonte Scuola TV nuovamente in diretta oggi mercoledì tre aprile un nuovo spazio dedicato al concorso scuola duemila ventiquattro perché eh sono arrivate rispetto a quello che è accaduto la scorsa settimana perché noi siamo andati in diretta mercoledì scorso sempre lo stesso orario sono arrivati i quadri eh di eh rispetto per quanto riguarda la prova eh le prove orali criteri eh del dell'orale posto comune sostegno sia per eh infanzia primaria che eh scuola secondaria di primo e di secondo grado quindi c'è sembrato giusto fare un nuovo spazio eh informativo alla luce delle eh di quanto è stato pubblicato dal ministero dell'istruzione e del merito siamo live sulla nostra pagina Facebook sul nostro canale YouTube oltre che sul nostro sito orizzontescola.it siamo partiti qualche minuto dopo le 20 e 30 qualche piccolo problema tecnico abbiamo eh risolto quindi mi scuso con chi eh ci ha atteso e quindi siamo ora live eh e saremo in diretta per un'ora circa con noi fra pochissimo Nunzia De Falco eh docente esperta in normativa eh scolastica e appunto in questi casi anche esperta dai eh pratiche concursuali di didattica e cioè ieri l'altra volta scusate la scorsa settimana davvero una eh ottimo webinar tanto seguito eh sui nostri canali e anche on demand sì perché questo eh webinar potete seguirlo anche eh in una fase successiva e potete andare quindi direttamente alla parte che vi interessa. Banda le ciance quindi diamo direttamente spazio a Nunzia buonasera Nunzia grazie per essere con noi. Ciao Andrea ciao buonasera amici di Orizzonte Scuola parto con un grazie anche per il vostro affetto e i vostri commenti dopo le varie dirette soprattutto quella del ventisette marzo in cui abbiamo parlato della prova orale. Eh infatti eh Nunzia noi eh adesso parliamo del eh dei quadri di riferimento pubblicati dal ministero eh andiamo subito partiamo eh con i eh documenti li analizziamo ecco eh vediamo subito quello che riguarda eh giusto per essere ecco parliamo partiamo dalla scuola secondaria eh di primo e secondo grado se sei d'accordo certo eh io lo metto qua a schermo eh così lo mettiamo direttamente a schermo intero eh spero che si veda io lo vedo bene eh spero che lo vedono bene ecco consiglio ai nostri lettori eh ai nostri utenti anzi in questo caso eh di ehm di mettere nella modalità diciamo massima quindi nella alta risoluzione e soprattutto di guardare il video su YouTube eh dunque di permettere di avere la possibilità anche con la rotellina di andare direttamente alla alla risoluzione massima cioè milleottanta eh di guardarlo ovviamente su un tablet su un pc perché probabilmente su un su uno smartphone non viene benissimo guardarlo anche perché come vedete il il pdf è molto scritto ci sono poche diciamo non sono delle slide ecco è proprio un documento in pdf però adesso mi taccio e do la parola annunzia e partiamo con la scuola secondaria di primo e secondo grado. Sì in questo momento stiamo vedendo i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale e pratica quindi per tutte le classi di concorso che prevedono anche la prova pratica per completezza vi dico che ci sono anche dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale posto sostegno sempre per la secondaria quadri di riferimento per le classi di concorso per la prova orale che non hanno pratica e e quindi insomma sono diversi quadri noi partiamo da questo per maggiore completezza perché c'è anche la sezione dedicata alla prova pratica come vedete il quadro è strutturato in questa maniera nella prima parte ci ricorda come è organizzata la prova orale e quindi ci ricorda che c'è un colloquio su domande disciplinari abbiamo già affrontato la questione nella scorsa diretta ma colgo l'occasione per ricordare e per dare anche la mia interpretazione su cosa si possa intendere per domande disciplinari eh vedete che non ci sono specifiche ulteriori domande disciplinari in un concorso che nella prova scritta ha valutato competenze pedagogiche psicopedagogiche metodologiche eh relative alla conoscenza dell'inglese per me servono a sondare quanto il candidato conosca le discipline della propria classe di concorso quindi abbiamo un colloquio su domande disciplinari che vengono estratte ad inizio della prova e una lezione simulata la traccia si estrae ventiquattro ore prima quindi il punto A è relativo alla prova orale che è divisa in questi due step e poi ovviamente c'è ehm la l'accertamento della conoscenza e capacità di conversazione in lingua inglese livello B2 poi alla lettera B per le classi di concorso che prevedono la prova pratica abbiamo la valutazione relativa alla prova pratica consiglio sempre di consultare l'allegato A perché eh c'è quello relativo ai programmi perché la prova pratica differisce nei tempi nell'organizzazione nelle modalità per tutte le classi di concorso sono tutte prove differenti quindi scorrendo il quadro vediamo ecco la commissione ha a disposizione cento punti per il colloquio e cento punti per la prova pratica cento è il massimo settanta è il minimo attenzione però questi punti non si sommano perché ci sarà un solo punteggio che farà eh che verrà ehm realizzato facendo la media aritmetica tra il punteggio dell'orale e il punteggio della prova pratica proprio una media matematica però la commissione valuterà sia la prova orale che la prova eh pratica e dopo farà media eh quindi poi a seguire vedete gli indicatori se scendiamo un pochino Andrea vedete che sono prima molto ampi punto sempre relativamente alla alla parte A che vedete specificata sopra eh ci sono diciamo le articolazioni del colloquio accertamento delle competenze didattiche generali attraverso un test didattico specifico consistente in una lezione simulata il punto A1 il punto A2 accertamento delle conoscenze delle competenze sulla disciplina della classe di concorso quindi la parte relativa ai quesiti il punto A3 è relativo alla lingua inglese eh a seguire vedete ci sono degli ambiti cioè eh gli indicatori vi vi descrivono come si può arrivare a cento sono i punteggi massimi quindi si va da un minimo a un massimo a seconda di quattro ambiti in questo caso cioè per tutte le classi di concorso che prevedono la prova orale e la prova orale eh pratica gli ambiti sono quattro leggiamo prima gli ambiti e poi andiamo a vedere nel dettaglio l'ambito uno prevede un massimale di quaranta punti quindi peserà molto nella vostra valutazione e quindi ehm è mirato a valutare la competenza di progettazione pedagogico didattica con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato cosa significa? Quanto sapete organizzare bene la lezione simulata? Quanto riuscite a eh avvalervi dei riferimenti di normativa anche di quella parte della normativa soprattutto di quella parte della normativa che è afferente alla didattica quindi della normo didattica perché chiaramente nella progettazione la normativa non va intesa come un qualcosa che eh deve indurvi a ricordare dei numeri di decretici c'è un ampio apparato normativo che vi dà proprio indicazioni pratiche spendibili nella lezione simulata e quindi diciamo è è proprio la fase progettuale secondo ambito anche pesa molto 40 punti quindi questo chiaramente è sempre il massimo perché dobbiamo arrivare a 100 conoscenza dell'argomento degli argomenti assegnati e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare vedete che eh tutte le parti dell'orale eh vengono valutate in attraverso questi ambiti tutte le varie sezioni che abbiamo eh visto prima quindi quanto conoscete gli argomenti delle vostre delle discipline del della vostra classe di concorso quindi la pertinenza proprio la conoscenza dell' argomento ma anche la resa didattica di quell'argomento quindi una parte è relativa proprio a quanto conoscete gli argomenti che verosimilmente verranno testati attraverso le vostre risposte ai quesiti ma anche quanto sapete rendere quei quegli argomenti materia pulsante materia didattica quindi quanto attraverso le metodologie le giuste metodologie riuscite a eh farli diventare qualcosa che a lezione aiuta a concorre e concorre a raggiungere gli obiettivi prefissati questo quindi un altro ambito da 40 punti ambito tre massimo dieci punti qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la commissione con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale sintattico e lessicale all'ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico didattica chiaramente la lingua italiana l'uso della lingua italiana la corretta grammatica la pertinenza anche dei termini utilizzati sono oggetto di valutazione ma chiaramente servirà anche un linguaggio tecnico sia eh rispetto a tutto ciò che è la relativo all'area pedagogico didattica ma in generale su quello che è eh che sono tutte le le componenti che vengono verificate durante il colloquio quindi chiaramente una padronanza lessicale ma anche l'utilizzo di termini specifici quindi di terminologia scientifica di settore in questo vi aiuterà ovviamente stare eh molto diciamo eh allenati anche all'esposizione questo è un consiglio che do soprattutto se non siete abituati ai colloqui parlate tanto ad alta voce perché quello sicuramente è un training utile per raggiungere questo massimale di dieci punti. L'ambito quattro è dedicato alla lingua inglese abilità e comprensione e produzione abilità di comprensione e produzione orale in lingue inglese almeno a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue anche con riferimento alla specifica competenza metodologica didattica. Eh verosimilmente si quasi tratta di conversazione e comprensione ma io suggerirei anche un po' di allenamento alla terminologia in lingua inglese relativa alla didattica perché chiaramente siamo in un concorso per docenti è possibile e molto è altamente probabile che servano anche dei termini tecnici in tal senso. Quindi questi sono i quattro ambiti scorrendo ancora giù vediamo che per ogni ambito sono indicati dei livelli. Allora l'ambito è di nuovo eh riportato nella prima colonna c'è il numero nella seconda c'è l'ambito è riportato anche se in maniera ancora più argomentata nella seconda colonna vedete capacità di progettazione appropriata contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico efficace anche con riferimento alle TIC finalizzata a raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordine degli ordinamenti didattici vigenti. È quello che abbiamo letto nel primo ambito e avete ulteriori dettagli vedete in questo caso la il riferimento alle TIC. A quel punto abbiamo gli indicatori perché è importante conoscere i quadri di riferimento non soltanto per capire come verrete valutati ma una lettura critica dei quadri di riferimento video vi fornisce anche gli strumenti per capire come indirizzare lo studio. Allora andiamo agli indicatori rispetto all'ambito. Efficace inquadramento delle diverse fasi della progettazione cioè tutto quello che è relativo a come organizzate la lezione simulata in maniera efficace. Con particolare riguardo alla definizione degli ambienti di apprendimento questa è un'altra apertura che rispetto alla parte iniziale più sintetica di descrizione degli ambiti non era chiarita ma chiaramente implicito però qui ci viene detto in maniera molto chiara contesti di riferimento, nuclei fondanti, strategie di insegnamento, tempi e risorse strumentali e delle tecnologie digitali pertinenti con la progettazione del percorso formativo. Sono tutte cose che con cui avete già cominciato a prendere confidenza mentre studiavate per lo scritto. Però qui andiamo in una dimensione applicativa. Tutto quello che è la competenza pedagogica acquisita, le strategie, le metodologie, durante la strutturazione della lezione simulata e l'esposizione, il momento in cui descriverete alla commissione qual è la lezione simulata che avete, insomma, l'UDA che avete progettato chiaramente dovrà venire fuori perché ci sarà un incontro tra le competenze pedagogiche, le strategie metodologiche e le discipline. A quel punto andando all'altra colonna abbiamo dei descrittori di livello perché ai descrittori di livello corrisponde un punteggio. Se Andrea lo sposti ancora di più a destra, vedete? Allora, il fatto che ci sia lo zero per ognuno di questi ambiti significa che lo zero è contemplato. Questo lo dico perché c'è quel tormentone che chiaramente preoccupa molti relativo alla lingua inglese. Ci arriveremo dopo, ma faccio un piccolo spoiler, ve l'anticipo. Lo zero è contemplato, il che significa che se uno tace, non ve lo auguro, io consiglio sempre di parlare, però se ci fosse un momento di gap e di scena muta, non è che si compromette totalmente la prova e si annulla la prova, si totalizza un punteggio basso perché lo zero è nei punteggi. Quindi vedete i descrittori di livello, siamo sempre sul primo ambito, dal più basso al più elevato, cioè dallo zero al quaranta, questo è l'ambito in cui possiamo arrivare fino a quaranta, manifesta una totale o grave carenza di capacità di progettazione, cioè non riuscite proprio a progettare l'unità didattica o di padronità di apprendimento, didattica di apprendimento e di padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche. Questo è il livello più basso. Andando verso l'alto vedete che progressivamente c'è, manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa. Sembra un pochino quando noi prof scriviamo un pochino i termini, utilizziamo i termini nella descrizione degli obiettivi che raggiungono i nostri studenti e chiaramente una griglia che valuta andando progressivamente dal gradino più basso al gradino più elevato. Andando ancora più avanti, diciamo questo è il secondo punto è da 14 a 27 perché progettazione disorganica e confusa basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche, imprecise, quindi di fatto non c'è, si vede che non c'è, non si è allenati a quel tipo di progettazione didattica, si è un po' scollegati dalla tematica, ma comunque qualcosa è stato detto, è stato detto più o meno decentemente dal 14 al 27. Salendo una valutazione che fa totalizzare un punteggio medio-alto, il livello, il descrittore di livello è manifesta una capacità di progettazione sufficiente basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche pertinenti anche con riferimento alle tecnologie informatiche, cioè è quel livello che noi reputiamo sufficiente, sufficiente rispetto alla progettazione, ai termini utilizzati, alla competenza che si dimostra in quel momento, salendo ancora manifesta una capacità di progettazione appropriata basandosi su ampie conoscenze, vedete già un punteggio più alto, 29-34, ecco questa è la fascia medio-alta, andiamo alla fascia che ci consente di arrivare a 40 e quella sottostante, se Andrea sali un pochettino col cursore lo facciamo vedere, manifesta troppo, questo è il secondo ambito. Sì, eccolo qua, lo leggi ora? Aspetta, eccolo. No. Leggi? Nunzia. Postata sulla mia schermata, ecco qua. 14-20, sì, manifesta una capacità di progettazione appropriata basandosi su ampie conoscenze e competenze didattiche. Vedete, insomma, senza che ci soffermiamo nella maniera dettagliata, però capite che dallo zero la competenza è rarefatta, si vede che l'UDA, magari la lezione simulata non è stata organizzata bene, quel tipo di ambito è malinquadrato, non c'è una progettazione pertinente, le TIC non vengono conosciute o comunque se sono, insomma, sono state, il riferimento alle TIC non è pertinente, livello basso, salendo progressivamente, quando queste competenze si dimostrano alla commissione in maniera sempre più ampia, con strumenti di progettazione sempre più ampi, ci avviciniamo prima a un grado sufficiente e poi a un grado elevato. Questo è il primo indicatore. Più o meno, vedete che la struttura è analoga anche per gli altri ambiti. Se ritorniamo alla prima colonna, andiamo al secondo ambito, vi ricordo che anche il secondo ambito è molto ampio perché consente di arrivare a 40. La struttura è sempre alla medesima, non mi soffermo sulla struttura, vado direttamente, Andrea, se gentilmente fai vedere ai nostri ascoltatori, la parte di sinistra relativa agli indicatori del secondo ambito. Ecco, allora facciamo una cosa, ecco, lo facciamo così così, lo vediamo, scusate, ma il pdf... Questo è il primo ambito, ok. Secondo, anche con questo ambito c'è la possibilità di arrivare a 40 punti. Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche, cioè quanto conosci le discipline della tua classe di concorso e quanto sai renderle didatticamente operanti. Adesso quindi abbiamo l'indicatore, conoscenza dell'argomento assegnato, degli argomenti assegnati e coerenza delle scelte metodologiche, cioè uno non deve sparare a caso, deve fare in modo che ci sia una strategia veramente vincente che valorizzi e rendi e renda didatticamente valido, quel contenuto. Chiaramente qui acchiappiamo anche l'ambito relativo, anche l'aspetto del colloquio che è relativo ai quesiti disciplinari, perché conoscenza dell'argomento assegnato e anche quanto bene sapete rispondere ai quesiti su disciplina e relativamente alle metodologie quanto sapete applicare quei contenuti disciplinari. Quindi definizione di coerenti azioni, di verifica e valutazione, quindi tutto ciò che rientra nell'ambito della valutazione, degli apprendimenti, riferimenti pertinenti alle indicazioni nazionali immancabili, ovvero alle linee guida vigenti. È necessario conoscerle e conoscerle tutte in riferimento alla classe di concorso per la quale si concorre. Non mi soffermo sui vari livelli di indicatori perché abbiamo capito che vengono strutturati sulla base di quattro punti da un minimo di zero, in questo caso a un massimo di 40, a seconda di come sapete trattare l'argomento. Poi scendendo abbiamo il 3, sempre con una struttura analoga, il punto 3. Andrea? Sì, intanto non sia, ecco, giusto per, perché sto vedendo diversi commenti, ecco, spieghiamo questo passaggio, che Maria ti chiede, facciamo un po' di chiarezza, UDA, lezione simulata, non sono la stessa cosa, la lezione è un segmento che può essere inserito in un UDA, noi dobbiamo preparare un argomento. Allora, nel momento in cui si deve, allora, in che senso noi dobbiamo preparare un argomento? Si sta riferendo alla lezione simulata? Sulla preparazione, quindi la traccia estratta 24 ore prima relativa alla lezione simulata, così dice il decreto, lezione simulata, non può essere un'esposizione disorganizzata, né può essere un momento in cui si simula di parlare con una classe. La lezione simulata si presenta a una commissione e chiaramente la si presenta in modo che quei saperi possano avere anche un'applicazione, una spendibilità didattica e vanno articolati, articolati ipotizzando una determinata classe, dei tempi di apprendimento e anche di articolazione della lezione, dei prerequisiti e degli obiettivi. Quindi tutto sommato, quello che è previsto nell'organizzazione dell'unità didattica di apprendimento, concorre all'organizzazione di una lezione simulata, perché di fatto non è un parlare senza questi riferimenti la lezione simulata. Esige, e lo stiamo vedendo anche dall'articolazione dei quadri di riferimento, cioè i quadri di riferimento che valutano la lezione simulata, la prova d'inglese e anche i quesiti. Vedete, parlano di competenze metodologiche, di scienza della valutazione, di progettazione. Quindi capiamo bene che sono tutte allusioni che, conoscendo bene l'organizzazione di un'unità didattica di apprendimento, rendono ottimale l'organizzazione della lezione simulata. Bene, perfetto, Nunzia, andiamo avanti, grazie. Allora, stavamo al punto 3, sì sì sì, se scendi un pochettino lo mostriamo anche a loro. L'ambito 3, qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata, correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione. Qua è la nostra padronanza nell'esposizione orale. quanto sappiamo parlare, quanto sono coerenti i termini che utilizziamo, quindi non soltanto una correttezza sintattico-grammaticale, ma anche un linguaggio di settore efficace, funzionante, una dialettica e chiaramente anche qui abbiamo dei livelli da 0 a 10 in questo caso, però tanto più riusciamo a organizzare e a organizzare, a esporre in maniera chiara, precisa e anche pertinente, tanto più ci avviciniamo al massimo livello. Infatti nell'indicatore vediamo capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, argomentato, quindi nel momento in cui io do una definizione, dimostro che la conosco, che non è semplicemente un termine che in quel momento sfoggio, ma che ho piena capacità anche di renderlo applicativo, adeguato alle richieste con un linguaggio tecnico appropriato, quindi qualunque sia il tipo di domanda e il tipo anche di interlocuzione, utilizzare la terminologia tecnica sia sulla nostra disciplina, sia per esempio, se io dico riunione di classe e invece sto pensando a un consiglio di classe, ecco, è chiaramente una differenza in termini di in termini di lessico utilizzato, cioè, e sto facendo un esempio semplice, però su ogni tipo di domanda e su ogni concetto espresso, il lessico che utilizziamo e la chiarezza con cui esponiamo può essere valutato fino a dieci. E alla fine abbiamo il temuto, ecco, se scendiamo, il temuto inglese. Interazione orale, quindi sul colloquio, stiamo parlando della prova orale, comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Andando all'indicatore vediamo capacità di interagire in una conversazione rispondendo, quindi ci sono delle domande da parte del docente o della docente a cui il candidato, la candidata deve rispondere e esponendo, argomentando, anche qui più livelli, facciamoli vedere, quindi facciamo vedere che c'è dallo zero a dieci Andrea, così visto che questa è una delle prove più temute, diciamo la parte del colloquio forse è più temuta. Vedete il timore della scena muta, il timore della non comprensione di una domanda e della non capacità di risposta va da zero a tre. Progressivamente salendo, se si comprende in modo parziale siamo da quattro a sei, in modo globale siamo intorno a sette, globale dettagliato otto nove, in modo globale dettagliato, completo, esaustivo, esponendo anche in maniera fluente, quindi la capacità di un linguaggio anche sciolto con fluente in inglese, possiamo arrivare fino a dieci. Allora, questa struttura, nella parte di sotto poi abbiamo gli indicatori della prova pratica. Questa struttura, mutatis mutandis, la ritrovate con delle variazioni in maniera analoga anche nei quadri di riferimento per le altre classi di concorso. Ecco, questi sono gli ambiti della prova pratica. Allora, ovviamente sono generali, molto ampi, perché? Perché la prova pratica prevede delle specificità di volta in volta differenti a seconda della classe di concorso. Non si può essere dettagliati in questi quadri di riferimento. Dobbiamo essere noi in grado di capire rispetto alla nostra tipologia di prova pratica questi ambiti come diventano spendibili. Ambito 1, fino a massimo 20 punti, competenza progettuale e padronanza dei contenuti, perché le prove pratiche contengono in moltissimi casi sia una parte in cui, sto pensando in questo momento, chiaramente alle discipline musicali, c'è la parte in cui per la 55 e la 56 si suona un brano, quindi si dimostra la padronanza tecnica e interpretativa su quel brano, ma c'è anche un momento in cui viene estratto un brano e quel brano non solo deve essere eseguito, ma deve anche essere, su quel brano si deve fare anche un ragionamento di tipo didattico, ok? Quindi competenza progettuale in quel caso. Nell'ambito 2, e questo discorso che ho fatto nello specifico sulle classi di concorso di strumento a 55, a 56 e canto, riportatevelo sulle specificità delle vostre classi di concorso che prevedono prova pratica. Ambito 2, molto pesante come valutazione, vedete, fino a massimo 40 punti, dove si tratta di metodologie, strumenti e tecniche, chiaramente la parte tecnica di quella disciplina che viene valutata attraverso la prova pratica, ma anche la parte metodologica. E ambito 3, fino a 20 punti, analisi e rappresentazione dei risultati e fino a 20, argomentazione, documentazione e l'uso del linguaggio di settore. Vedete, questa è una costante che compare sempre nella prova, sia nell'orale, che chiaramente nella pratica, la capacità di un linguaggio non generico, ma specifico. Ecco perché consiglio un training anche nell'esposizione, perché se noi ci manteniamo su una terminologia ampia, laddove ci è chiesto una competenza tecnica, chiaramente il nostro indicatore rimane basso, la valutazione relativa all'indicatore rimane bassa. Giusto uno sguardo, ma non mi soffermo perché l'impostazione è la medesima, vedete sotto, quindi la prima parte, Andrea, se scorri un pochettino lo facciamo vedere, la struttura della tabella è la medesima. Ambiti, quindi di nuovo riportato l'ambito. L'indicatore, quindi ci sono delle specifiche in più rispetto all'ambito, vedete il primo ad esempio conoscenza dei nuclei fondanti della, delle discipline, capacità di progettazione relativamente alla prova assegnata e poi dei scrittori di livello, sempre dal minimo al massimo, quindi attraverso gli indicatori, voi avete anche degli strumenti per capire come indirizzare lo studio, perché vi danno, se vedete il secondo per esempio, rispetto all'uso delle metodologie, strumenti e tecniche, capacità di individuare una corretta strategia risolutiva con particolare riferimento all'uso appropriato delle metodologie sperimentali, degli strumenti e delle tecniche specifiche, cioè rispetto a quello che è la prova pratica, chiaramente avere anche delle strategie metodologiche efficaci e sperimentate e molteplici consente di arrivare al massimo della valutazione prevista e via dicendo. Io consiglio un'attenta lettura di questi quadri pensando, cioè mettendoli a raffronto con quanto esposto nell'allegato A, in modo da poter capire come valorizzare sia quanto richiesto per l'orale che quanto richiesto per la pratica. Bene. Ecco, Nunzia. Sì. Allora, possiamo passare, se vuoi, a quello che appunto riguarda la, chiudo ora questo qui, passiamo adesso a quello che riguarda la scuola dell'infanzia, posto comune, se per te va bene. Sì, sì. Eh no, scusate, un attimo perché stiamo condividendo lo schermo in modo tale che così sia facilmente comprensibile a tutti, soprattutto perché come vedete qui è davvero piccolo il pdf, ovviamente questo è chiaro, i documenti sono visionabili sul sito del ministero dove trovate tutto già, diciamo, anche potete anche stamparli, quindi noi li mettiamo a schermo per commentarli passo passo. Ecco, vai Nunzia. Allora. Scusate, questa è la scuola primaria. Sì, allora, ricordiamo le tempistiche della scuola primaria e dell'infanzia, anche a livello di durata della prova orale, la durata è di 30 minuti, mentre per la secondaria è di 45. Se scendiamo, vedete, vabbè, c'è sempre riferimento al decreto che contiene l'allegato A, nel quale trovate, insomma, i programmi e tutto ciò che, tutte le indicazioni, vedete anche che ripercorre la durata, fermi restanti gli eventuali tempi aggiuntivi, chiaramente gli ausili, scendiamo così mossiamo direttamente gli ambiti. La prova consiste nella presentazione di un progetto relativo a un'attività didattica comprensiva dell'illustrazione delle scelte compiute per gli aspetti, aspetta se è mosso, stavo ripetendo. Stai leggendo, ecco, stai leggendo quella parte. La, 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 forse i nostri lettori non vedono bene, devi stringere un pochettino così glielo mostriamo. Ecco. Ok. La prova consiste nella presentazione di un progetto relativo a un'attività didattica comprensiva dell'illustrazione delle scelte compiute per gli aspetti contenutistici, didattici, metodologici e valutativi, nonché di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. Vedete che gli ingredienti di questa torta sono sempre gli stessi, possono essere articolati in maniera differente, in base alle varie specificità, ma ci sono delle costanti tecnologie digitali, la, la progettazione, ehm, insomma, le, le strategie metodologiche. Il candidato illustra il progetto dell'attività didattica che è ideato in un tempo adeguato alla durata massima complessiva prevista, considerando che nel corso della presentazione la commissione interloquisce con il candidato. E vabbè, questo l'abbiamo già in parte chiarito. Andiamo a vedere gli ambiti. Sì, andiamo. Eccoli qua. Questa è scuola primaria, posto comune. Ah, posto comune è infanzia, aspetta, perché, allora, no, questa è la, scusa. Primaria, primaria. Scusate, scusate, ho sbagliato io. Allora, vedete la struttura è la stessa, ci sono gli ambiti, la descrizione, il punteggio e il relativo settore valutato, l'ambito valutato. Vedete che qui ce ne sono cinque. Andiamo ad analizzarli. Nel primo ambito, e il primo ambito è quello che pesa nella valutazione maggiormente, infatti possiamo arrivare massimo a 40 punti. Perché, vedete, è l'articolazione della progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorico- didattica e psicopedagogica e al suo utilizzo coerente e critico in sede progettuale. E a tal proposito, chiaramente, eh, ho sentito un po' che c'è la, la, non voglio, voglio essere diplomatica, ecco, si è diffuso forse un po' la tendenza di voler chiedere troppo aiuti esterni. Attenzione, perché se non si conosce bene, eh, la, l'argomento e anche la struttura relativa alla lezione simulata che, su cui si sta discutendo, questa parte, il suo utilizzo coerente e critico, viene meno. Io vi, eh, sollecito piuttosto a esercitarvi in modo che, eh, abbiate una griglia funzionante per la lezione simulata, in modo che sicuramente l'argomento sarà poi specifico rispetto alla traccia estratta, però quantomeno avete un allenamento a quelle che sono, eh, le strutture, non so, cominciate a preparare un PowerPoint basic in modo poi da articolarlo sulla base della traccia che verrà estratta, eh, fate una griglia di riferimento che vi possa essere, possa essere il, il binario, lo satura, lo scheletro su cui, eh, intessere poi la vostra lezione simulata, perché la parte critica è nell'ambito della valutazione che vi consente di arrivare a massimo 40 punti, ok? In sede progettuale, continuo a leggere, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto e alla normativa vigente, ancora una volta, eh, faccio questo riferimento alla normativa troppo spesso, rispetto alla quale troppo spesso si ha una visione troppo nozionistica, no, rendiamo la normativa parte del nostro, della nostra progettazione didattica e creiamo una rete tra la normativa, la normativa che ci interessa e deve ovviamente con coerenza e pertinenza e ciò che stiamo progettando, alla strutturazione logica, coerente e consapevole della proposta educativo-didattica e alla sua declinazione operativa, alla valutazione e verifica degli apprendimenti e dell'intervento didattico. Questo aspetto è la valutazione, qui lo troviamo nell'ambito uno e quindi deve, ehm, diciamo, viene calcolato nella, nella parte che può consente di arrivare a massimo quaranta punti. Nell'ambito due, che ci consente di arrivare a quindici punti, padronanza dei contenuti disciplinari. Ecco qui, ehm, c'è quella parte che allo scritto non, non si è, non è stata valutata, perché lo scritto, ricordiamo, prevedeva, eh, dei quesiti, cinquanta quesiti, eh, su argomenti pedagogici, psicopedagogici, eccetera, ma questo è il momento in cui voi dovete dimostrare anche di conoscere le discipline della, della casse di concorso di interesse e ancora una volta in coerenza anche alle competenze metodologiche, cioè quanto la conosci e quanto sai operare strategie didatticamente esaurienti, efficaci e validi e valide, secondo quanto previsto dagli indicatori nazionali per il curriculum. Questi vanno conosciuti per tutti gli ordini, per tutti i gradi e per tutte le classi di concorso. Li trovate facilmente online. Ambito tre, che consente di arrivare massimo a venti punti, abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese, eccolo, il livello B2, anche con riferimento alle specifiche competenze metodologiche e didattiche. Non mi soffermo perché in analogia, eh, rispetto a quanto detto per la prova orale della scuola secondaria. L'ambito quattro, che consente di arrivare a massimo quindici punti, valuta la competenza nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, TIC, con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. Vedete che nella scuola primaria la parte relativa alle TIC è in un ambito a parte, ha una valutazione a parte, che consente di arrivare fino a quindici punti rispetto alle tabelle di valutazione. Ambito cinque, ancora una volta la riferimento a come noi esponiamo qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la commissione con riferimento alla padronanza linguistica su piano grammaticale, sintattico e lessicale, cioè saper parlare correttamente in italiano, ma anche ampiezza e ricchezza della competenza lessicale, cioè non dobbiamo riciclare termini. Guardate che questa è una caratteristica, talvolta può succedere quando si è sotto pressione e in ansia di affezionarsi a un termine, utilizzare sempre quello, è il caso di discenti, alle volte si va in loop, il discente, il discente, il discente, sì possiamo dire discente, possiamo dire studente, possiamo dire preadolescente, secondo del livello, insomma anche avere una varietà e una pertinenza chiaramente coerente con quello che stiamo dicendo ci consente di non ripetere in maniera sistematica e talvolta reiterata gli stessi termini e ovviamente devono essere usati in maniera appropriata anche riguardo alla terminologia pedagogico-didattica. Ancora una volta questa, su questa non mi soffermo perché analoga al quanto detto per la scuola secondaria, i termini corretti e scientifici vanno conosciuti e utilizzati con criterio. Giusto lo sguardo perché la struttura Andrea è la stessa, ma giusto per far vedere che ancora una volta sotto, nella parte sottostante di questo documento, aspettiamo che Andrea muove il cursore, vedete la tabella che presenta nella, vabbè togliamo il numero, l'ambito, quindi ci riporta gli ambiti, gli indicatori che vi danno delle specifiche in più e i vari livelli i livelli che, ai quali corrispondono dei punteggi. Anche qui abbiamo da un minimo eh di punteggio che va dallo zero al massimo, chiaramente non auguro a nessuno un punteggio, ma lo dico semplicemente perché eh visto che c'è stato spesso anche nella nella scorsa diretta eh c'è stata c'è stata chiesta insomma eh se io non so rispondere a una domanda c'è stato chiesto, se tu non sai rispondere a una domanda non è che compromesso tutto l'orale, è compromesso quel punteggio relativo agli indicatore rispetto a quella domanda, a quella, a quel tipo di ambito, ok? Chiaramente non lo auguro, però non significa che l'orale è nullo, ok? Penso che abbiamo attraverso anche questi due abbiamo dato degli strumenti che consentano a tutti anche di eh vedere i propri e quelli che non abbiamo trattato perché mutatis mutandis ci ritroviamo più o meno eh la stessa struttura e anche gli stessi ambiti. Ecco eh per così per completezza di informazione vediamo appunto c'è anche quello dell'infanzia della scuola dell'infanzia ma è praticamente anche quelli per il sostegno però vedete che eh leggendo in maniera dettagliata due di queste griglie di eh di valutazione eccetera eh avete più o meno eh gli strumenti a in maniera molto ampia per capire tutti gli ambiti rispetto a tutte le varie prove e tutti gli indicatori. Ecco eh andiamo eh a eh a qualche domanda Anunzia così eh anche per i nostri lettori quindi chiudiamo eh la ehm